Che è inspiegabile, come il sindaco Lomeo in questo momento di profonda crisi chiede di fare dei sacrifici a tutti i cittadini, vedi aumento della Tarsu, aumento delle rette di asilinido al 120%, si è l'eliminazione del servizio AST del territorio bagherese, non si riesce a dare una risposta adeguata alle famiglie indigenti, vedi anche la lettera fatta dei parroci, il grido fatto dei parroci. E quindi noi quello che chiediamo a questo sindaco è di revocare immediatamente questi incarichi, che sono incarichi pari a 50.000 euro. Questo è uno schiaffo morale all'intelligenza dei cittadini. Contestiamo insieme ai partiti dell'opposizione i provvedimenti adottati dal sindaco Lomeo. Riteniamo intanto che siano di dubbia legittimità perché non sono state adottate valutazioni comparative come prevede la legge e il regolamento dei servizi interno, perché sono privi di documentazione fiscale, privi di impegno di spesa, perché anche violano diverse norme di legge. In ogni caso riteniamo che sia moralmente inaggettabile, come ha detto il mio collega Maurizio Logalbo, la conduzione dell'amministrazione Lomeo, che con una mano chiede sacrifici enormi alla città e con l'altra sperpera denaro pubblico in incarichi inutili, perché l'attività oggetto degli incarichi può essere svolta, come previsto nelle stesse determine, dai dipendenti interni del comune.